Macchina amministrativa, la conosco bene, ho fatto il direttore generale del Comune di Milano, qualcosa di più si può fare anche qua se si cambiano i metodi. Credo molto nella tecnologia, sono assolutamente convinto che le aziende italiane e straniere nell'ambito della tecnologia possono usare Milano come terreno di sperimentazione e quindi fare una serie di interventi. La macchina comunale di Milano ha lato tecnologico e molto debole. Fare una serie di interventi quasi gratuitamente e poi il successo andare a rivenderselo altrove.